youtube ok devi provare a il bug guarda guarda questa è la vita dall'italia questa è la vita dall'italia basta vedere vedere ma ci ha fatto un pieno basta bubba bubba basta basta che ci sentiamo ok oh no questa è la vita dall'italia basta faccio la suite pitbull in azione il pitbull coreanese il pitbull coreanese